Riflettori dei mercati fermamente puntati sul vertice della Federal Reserve Americana in chiusura questo mercoledì, se tutti sono pronti a scommettere su un nuovo taglio nel programma di acquisto mensile di bond a 35 miliardi di dollari, un alone di mistero circonda l'eventuale rialzo dei tassi di interesse. Il governatore Yellen ha assicurato che li manterranno quasi allo zero per un periodo di tempo considerevole, gli osservatori sperano di ricavare maggiore precisione dalle sue parole. La Banca Centrale Americana rivedrà anche le proprie previsioni di crescita, probabilmente a ribasso, come ha già fatto il Fondo Monetario Internazionale.